Se il suo peschereccio non verrà dissequestrato in tempi brevi ha annunciato l'intenzione di volersi incatenare davanti alla capitaneria di porto di Mazzara del Vallo per il comandante dell'Aliseo Giuseppe Giacalone rimasto ferito dopo che la sua imbarcazione è stata mitragliata il 6 maggio scorso da una motovedetta libica quello che potrebbe verificarsi è una beffa oltre che il danno perché da mercoledì il motopesca dovrebbe essere già nelle acque maltesi per un nuovo lavoro. La società dell'armatore Alessandro Giacalone figlio del comandante infatti ha già firmato mesi addietro un contratto con una società di Malta per il traino delle gabbie di Tonni e per questo dovrebbe essere impiegato proprio il motopesca Aliseo. Il mezzo però è ormeggiato al porto di Mazzara del Vallo in attesa che il RIS dei carabinieri effettui alcuni sopralluoghi tecnici su delega della procura di Roma che ha aperto un'inchiesta dopo il mitragliamento da parte della guardia costiera libica. Rischiamo di perdere tutto e pagare le penali se non ottemperiamo al contratto ha detto il comandante Giacalone tutto il mio equipaggio ha necessità di lavorare non possiamo permetterci di stare fermi.